Salve a tutti, sono Micaela Biancofiore e temo una nota deputata di Forza Italia. Sì, accetto di sottocormi ad un test di cinismo politico. Accetto la sfida, assolutamente sì, e temo di perderla perché il cinismo non mi appartiene. Si definisce un politico A, sensibile, B, freddo, C, spietato. Assolutamente sensibile, ho appena scritto un libro che si intitola Il cuore oltre gli ostacoli e mi sono seduta su un grande cuore che vola. Ho sempre fatto politica per sentimento, per passione per il mio paese, per la mia gente, quindi decisamente sensibile. Una cartiveria in politica è A, attaccare senza scrupoli l'avversario, B, disobbedire la disciplina di partito, C, rigare l'auto del capogruppo. Mi darebbe da dire rigare l'auto del capogruppo, ma è riduttivo, direi la numero uno. Attaccare l'avversario politico senza scrupoli, soprattutto quando lo si fa sul piano personale, sul piano umano, sul piano della vita privata delle persone. Una poltrona per due pretendenti, cosa fare? A, sfido il mio competitor in un confronto pubblico, B, uso il metodo boffo, C, pago una escort che gli finisca nel letto. Mi piacerebbe dire pago una escort che gli finisca nel letto, invece direi che sfido il mio competitor assolutamente ad un dibattito pubblico, certo di poterlo battere. Il cinismo alla camera è A, votare per il compagno di banco assente, B, fare il franco tiratore, C, fregare il posto di un collega al ristorante. Nessuna delle tre, il cinismo alla camera in politica è soprattutto non avere scrupoli, insomma, avere un'ambizione senza scrupoli, cioè soprattutto gettare discredito gratuito sull'avversario e soprattutto fare interessi che non sono precisamente quelli delle persone, dei cittadini. Chi è il Frank Amberwood della politica italiana? A, Matteo Renzi, B, Angelino Alfano, C, Denis Verdini. Ve la liquido con una battuta, Matteo Alfano in Verdini.